Musica Primo ritrovamento Un bossolo francese Non male, continuiamo Un bossolo austriaco Meglio di ieri, devo dire Molto meglio di ieri Un bossolo austriaco lì Un bossolo italiano qui In questa che sembra essere Una impostazione di qualche tipo Carino, speriamo di trovare qualcos'altro Un bossolo di pistola Di cui adesso non ricordo il nome Poi mi informo E ve lo faccio sapere Vediamo se troviamo la data Anche da qualche parte Non la vedo bene Ah sì, 15 Vai Trovo il ritrovamento Proiettile Bello spantazzato Sembra austriaco Meglio di niente No? Il ritrovamento a vista Bottone austriaco Classico Fatto in zinco Vabbè Continuiamo Altro bottoncino Piccolo Sempre stesso tipo Stesso stampo Dai, qualcuno c'era qua Però Non si trova moltissimo Non ci credo Qua È saltato fuori Un bossolo austriaco Ho scavato E l'ho tirato fuori Classico bossolo austriaco Questo qua proprio Classico bossolo austriaco Ok Ho detto Bon Prima qua ci sono Vengo qua Trovo un altro segnale Ho detto Beh Sarà il suo fratello gemello Faccio così Col piede Per spostare Questa ramaglia Che c'è qua Non suonava più Allora ho detto Beh È qualcosa che è qui A sto punto E infatti E infatti Guardate cosa c'è qua Così proprio A caso Una stella alpina Cioè due piccole stelle alpine insieme Che spettacolo Vabbè Continuiamo Siamo di ritorno Dalla stella alpina E qui è saltata fuori Una bruttissima Cartuccia austriaca Datata 1916 Vediamo se Se si muove un po' qua Ops Ho fatto un danno Sì Mi sa che ho fatto un danno Ecco Inertizzata E pronta A essere messa In bacheca No non è vero Madonna Se è brutta Vabbè Nebel Sparato E dai Carino Ho appena trovato Un pezzo Di cuoio Qua Si vedono Ancora le cuciture Io lo so Magari Ci può essere Qualche scritta Io ho appena Trovato Una piccola Fibietta Un equipaggiamento Poi anche una batteria Carino Ho provato qualcosa Qua Di ferroso Che non so minimamente Cosa possa essere Andiamo al sole Cercare di capire Cosa possa essere Non ha fatto un chilometro Per arrivare qua Aveva un po' Della fibbia Come Come forma Per capirci Magari scrivetemelo Nei commenti A casa Lo pulisco meglio Allo buco Suonava ancora Ho trovato questo Come dire Questo sasso canterino Bello il sasso canterino Lo voglio Siamo arrivati Alla fine Di questa avventura E fortunatamente È andata anche Discretamente Ma è abbastanza bene Visto che L'unica cosa Di rilievo È questa bellissima Stella alpina Appena arrivo a casa Pulisco E poi Faremo un check Per vedere tutto quello Che è stato trovato Non tanta roba Ma dai Speriamo nella prossima A dopo Ok ragazzi Rieccoci qua Siamo tornati dai boschi E adesso proprio Vi mostro una rapida Carellata Di tutto Quello che è saltato fuori Nulla Di eccezionale A parte quella bella Stelletta all'incentro Che dopo vi mostro Nel dettaglio Cominciamo con la cosa Più inutile Che mi sono anche Portato a casa Non so il motivo Sinceramente Questo Beh Io l'ho chiamato Sasso nel video Ma in realtà Non so bene cosa sia È molto leggero Non è una roccia Un sasso E suona Il metal detector Impazzisce Quando ci passi sopra Da dei falsi segnali Dei disturbi Diciamo Non lo so Se voi avete qualche idea Magari scrivetemelo Nei commenti Perché no Poi abbiamo Questi due Piccoli bottoncini Penso siano fatti Entrambi Entrambi in zinco Perché Questo qua a destra Tende a sgretolarsi In alcuni punti È un po' malconcio Devo dire Ne ho trovati di molto Molto migliori Però dai Fa sempre piacere Trovare anche Oggettini così Comuni Diciamo D'altronde ti fa capire Che c'era qualcuno E quindi Di continuare a cercare Perché Come ben abbiamo visto Alcune cose Si trovano ancora Alcune cose Molto molto Interessanti E carine Proiettile Francese Dell'Ebel Sparato Si vede Dalle rigature Mi ero fatto Un portachiavi Con uno di questi Carino E Beh Non c'è Non c'è Nient'altro da dire Insomma Bossoli La maggior parte Austriaci Ma questo è rovinato Non si vede molto Dietro Un bel bossolo Datato 1917 Ce ne sono Anche di varie Altre date Con varie simbologie A seconda Della fabbrica In cui erano prodotti Questo Cos'è che è Datato 1915 Se non vado Errando No 1915 Altri Bossoli Un bossolo Del 91 Datato 1917 SMI Ovvero Società Metallurgica Italiana Una delle tante Fabriche Che produceva Munizioni Per il nostro Esercito Piccola Parentesi Nel Nel video Avete visto Questo bossolo All'inizio Ho pensato Che si trattasse Semplicemente Di un bossolo Francese Ne ho uno Qua Questo è un altro Questo qui Che vi mostro Adesso Ma guardandolo Attentamente In effetti Tanto francese Quello Alla mia Sinistra Non è Penso Che c'erano Varie Fabbriche Anche Per i bossoli Francesi Sicuramente Ma è totalmente Diverso È datato 1914 Qua sotto C'è un altro Simbolo Che non riesco A vedere bene Ho pensato Che potesse Trattarsi Di un Bossolo Russo Del Mosin Nagant Se ne sono Ancora Trovati In giro Da quelle Parti Non solo Bossoli Ma anche Altri Belli Oggettini Che ho Sentito Da altre Persone Non lo so Fatemi Sapere Voi Nei commenti Perché È proprio La prima Uscita Che registravo E il primo Ritrovamento È stato Proprio Questo Bossolo Pensavo Fosse Francese Ma Penso Che così Non sia E Detto Tutto No Questa Qua Bossolo Di pistola Della Bodeo Che non Ricordavo Il nome Anche In Discrette Condizioni Devo Dire Non è Non è Male Datato 1915 Anche Questo Pistola Italiana Molto Carino Speravo Ne saltassero Fuori Un po' Di più Perché Bossoline Un po' Ormai Però Fa sempre Piacere Trovarli Devo dire Cartuccia Austriaca Malconcia Arrugginita Marcia Non penso Che servino Tante presentazioni Per questo Rudere Che mostrare Una fibietta Piccolina Stesse Fibie Che ho trovato Assieme Anche Ai ramponi Da ghiaccio Mi è capitato Di trovarne Delle coppie Addirittura E Nella stessa Bucca Saltavano fuori Queste stesse Fibiette Che appunto Erano le fibie Con cui Si andavano Ad allacciare I ramponi Da ghiaccio Una piccola Fibia Sempre Per buffetteria Per equipaggiamento Del soldato Se ne trovano Di queste qua In certi punti Ormai Non trovi neanche Bossoli Però dai Qualche cosina Magari questa qua Si può anche pulire Con un po' di Sana Elettrolisi Che Mi sta divertendo Ultimamente Questo oggetto Misterioso Che Non ho la minima idea Di cosa possa essere O cosa potesse servire All'inizio L'ho saltato fuori Così ho detto Eccola Una bella fibia Invece no Purtroppo Niente Niente fibia A sto giro Come tutti gli altri Poi dal resto Se sapete O avete qualche idea Qualche informazione In più rispetto a me Scrivete anche questo Nei commenti Proiettile Penso austriaco Sparato Vediamo se mette a fuoco Questo Ok Penso austriaco Perché Confrontandolo Con un proiettile Italiano Si nota subito Che Il calibro È più grosso Quello Alla mia destra Vabbè Nulla Nulla di eccezionale Io vi mostro tutto Comunque dai Primo video Ci sta Devo prenderci Un po' Un po' La mano Questo pezzo Di cuoio Che ho pulito Abbastanza discretamente Diciamo Abbastanza bene Pensavo potesse Esserci qualche timbro Qualche sigla Scritta Qualche data Però Però niente Purtroppo Che sia Di qualche portacaricatori Si vede la cucitura Qua Però portacaricatori Non saprei neanch'io Non riesco Ad identificarlo C'ha qui un po' La forma Anche il bordo Sopra Per Perché possa essere Una parte Del portacaricatore Austriaco C'ha questa forma Che lo richiama Diciamo Ne ho Ne ho un pezzo qui No no È da un'altra parte Se no L'avrei confrontato Più che volentieri Vabbè Nulla di eccezionale Però Bel ritrovamento Comunque dai Ci può stare Ci può stare Una balanga Di sferri di piombo Non ve l'ho mostrata Tutte Perché stare lì A guardare uno Che tira su sferri di piombo Non penso sia Al massimo Del divertimento Contenute delle bombe Srapnel 149 mm Probabilmente Da quanto so Più grosso era il calibro Più grosse Erano le sfere Contenute in esse Fino a un raggiungimento Di un diametro massimo Insomma Non è che Una granata Da 305 mm C'erano sfere di piombo Grosse così Una batteria Devo dire Una delle più carine Che mi siano mai saltate fuori Se ne trovano spesso Nelle discariche Dove buttavano tutto In materiale Che non usavano Rotto Semplicemente Che Era ormai abbandonato Lì nei dintorni Allora Lo ammucchiavano da una parte Tanti saluti Ce lo ribecchiamo noi Cent'anni dopo Pezzi di vetro Ma Gli ho presi Semplicemente Per Controllare poi In internet Se potesse saltare fuori Qualche immagine Della bottiglia Completa Tanto da farmi un'idea Di che bottiglia Potesse trattarsi Nella ripresa Del video Ho visto che era Un po' contro luce Purtroppo Non me ne ero reso conto Ma si intravedono Qui due gambe Forse due bestie Due leoni Potrebbero essere in piedi Non ne ho la minima idea A me qua sotto Dà l'idea Di una specie di mare Di Uno specchio d'acqua Diciamo Con queste righe Potrebbero essere dei pesci Non lo so Fatemi sapere voi E l'altra L'altro petto di vetro Che mi sono portato dietro È questo qui È questo qui Qua c'è scritto Pies È di un bel azzurro Che trovarla intera Questa bottiglietta qua O bottiglia Perché Forse era anche bella grande Sarebbe stato davvero Un sogno Cioè trovare bottiglie È difficile Trovare bottiglie Con le scritte È ancora più difficile Ormai Si fa il possibile Spero di trovarla In internet Anche questa Magari Qualche Qualche bella foto Almeno Un raggio di sole C'è stato Questa bellissima Stella alpina Eccola qui Anzi Forse è meglio dire Queste due Bellissime stelle alpine Dato che sono due Sono messe insieme Era un ritrovamento Che avrei sempre voluto Però D'altronde Non mi è mai saltato fuori Quindi Non ho fatto altro Che continuare A cercarlo Ecco qui Un'uscita Molto carina Devo dire Mi sono Mi sono divertito Ecco Eccola qua Bene Io vi ho mostrato Tutto Quello che c'era Da mostrare E che dire Grazie per aver guardato Il video Se siete riusciti Ad arrivare Fino qui in fondo Ci vediamo Direttamente Sul campo E speriamo Che stati fuori Qualche bel Ritrovamento Ma l'importante È divertirsi Cercare questi cimeli Che ci fanno riflettere Su quello Che è accaduto Cent'anni fa Ma tenere viva La memoria di quei soldati Che purtroppo Molti giovani Sono morti Sul campo di battaglia Giovani e non E niente Ci troviamo sul campo Al prossimo video Grazie per avermi seguito Ciao tutti Ciao ciao